Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis E non poteva non uscire il mio video su Leviathan Ovviamente Consigliarvi il mio setup Che mi ha comunque permesso di giocare in abbastanza scioltezza Quasi praticamente in full auto Si può benissimo dire E volevo per l'appunto condividervi anche le mie run Giusto per farvi vedere come effettivamente si riesce a gestire la situazione C'è da dire che siamo ormai abituati a delle summon piuttosto sgrave Da un certo punto di vista Mentre invece Leviathan nelle difficoltà che vanno fino addirittura alla very hard 3 Come avrò modo comunque di potervi far vedere Si comportano in maniera molto normale Non sono neanche terribilmente difficili Proprio come meccaniche di gioco E anche come gestione del combattimento Quindi riuscire comunque a farmare i materiali per Leviathan E riuscire in un modo o nell'altro A uppare la summon in modo abbastanza semplice Non dovrebbe essere un problema Come potete notare ovviamente vi ricordo sempre di impostare le missioni di Leviathan Prima di cominciare E' vero che per sbloccare Leviathan Si dovrà diciamo completare all'inizio soltanto la fase normal Però vi ricordo che per sbloccare gli altri nodi E quindi portare la summon a un livello più alto Bisognerà praticamente completare anche gli stage very hard E poi in futuro anche quelli axe eccetera eccetera Quindi ricordatevi di mettere le missioni di Leviathan Già da sbloccare In modo tale che poi voi possiate giocare Possiate fare tutto quello che volete all'interno del gioco E nel frattempo accumulare i requisiti Per sbloccare la summon Anche perché poi ci sono come requisiti Utilizzare 500 stamina Nei contenuti in solo 100 invece nelle co-op Ricompletare addirittura un ranking dungeon Che è il monte Nibel Però anche se io già l'ho completato A quanto pare mi toccherà ricompletarlo In grado S+, però la versione normal Quindi non dovrebbe essere un grosso problema Per la maggior parte dei giocatori E poi performare 15 sintesi di materie E poi consegnare ovviamente i chunk magici I frammenti magici Ma quelli penso che comunque ne abbiamo tutti Una caterva infinita Quindi non credo saranno un problema Quindi gli obiettivi di Leviathan Sono comunque abbastanza semplici per lo sblocco Però ricordatevi che poi Bisognerà comunque andare avanti di difficoltà Per incrementare successivamente la potenza Come potete notare Io ho già comunque completato e registrato E ovviamente vi condividerò poi le run Degli stage Ovviamente non metterò la run in normal In hard Ma vi metterò soltanto le run in very hard 1 e 3 Che sono diciamo quelle magari un po' più Come dire forse quelle ricercate Da parte dei giocatori medi Per comunque sbloccare al massimo Il potenziale di Leviathan O comunque sbloccare un buon potenziale Per la summon di Leviathan Per quanto riguarderà le difficoltà ex Eccetera eccetera Mi ci devo mettere sotto Perché al momento non ho fatto nulla Non ho fatto neanche quelle di Shiva Non ho fatto Veramente non ho fatto nulla Quindi mi ci metterò poi con calma Nel momento in cui riuscirò a dedicarmi Un po' alla registrazione E allora cercheremo di fare dei setup Anche per quelle Anche perché personalmente parlando Non sono una whale Comunque devo fare dei setup studiati bene E devo fare dei setup Che abbiano comunque anche una logica Per aiutare la maggior parte dei giocatori Quindi devo comunque cercare di vedere Quelle che possono essere le armi più comuni I personaggi più comuni Eccetera eccetera Comunque per quanto riguarda Leviathan Che cosa dobbiamo dire Dobbiamo dire che ovviamente Abbiamo una debolezza tuono E poi una richiesta di sigilli Triangolo e X Quindi in questo caso Già sappiamo che cosa ovviamente fare Altra peculiarità di Leviathan È che è debole all'elemento tuono Ma è debole anche agli attacchi fisici Quindi in questo caso Cloud È il padrone assoluto della scena E altro particolare È che comunque è immune Praticamente a tutto Tranne appunto all'abbassamento Comunque di attacco fisico E attacco magico Anche se ovviamente lui Anche se comunque Leviathan È predisposto ad effettuare Attacchi magici Fate anche attenzione Perché Leviathan abbasserà le difese Le difese magiche del party Quindi il consiglio che vi do È portarvi o qualcuno Che possa aumentare le difese Oppure utilizzare Eris Con la nuova limit Che vi consente praticamente Di cancellare tutti i malus Dal vostro Diciamo dal vostro party E poi meccanica Unica di Leviathan È il Rising Tide Chiamiamolo così Per citare Final Fantasy 16 Ma è la sua capacità Praticamente di incrementare Il boost Per l'attacco Che farà Come attacco finale E si potrà diminuire Questo suo gauge Quindi questa sua potenza Dell'attacco Solo facendo danni tuono Quindi bisognerà fare Esclusivamente danni tuono Per ridurre la potenza Dell'attacco E poi tankarlo Subito dopo O ovviamente Se riuscite a ucciderlo Prima meglio Ma se non riuscite Ad ucciderlo prima Potete tankare l'attacco E poi successivamente Dedicarvi Alla fase a sigilli Che comunque È abbastanza fastidiosa Quindi Se riuscite ad ammazzarlo Prima bene Se lo ammazzate dopo Bene lo stesso Però Perderete un po' più di tempo Ovviamente Per quanto riguarda Lo stage normal Neanche ve ne discuto Perché è veramente Veramente semplice Lo stage hard 1 È La stessa cosa Del normal Solo con un po' più di HP Da parte del boss Ovviamente L'hard 2 È la stessa Identica cosa Perché hanno Praticamente Gli stessi Power recommended Solo che In una Abbiamo il drop Di Barrett Dell'arma nuova Di Barrett Nella 2 Nella 2 Invece abbiamo Il drop Dell'arma di Yuffie Ma la quest Come difficoltà È praticamente La stessa Stessa cosa Anche per la Veriard 1 E la Veriard 2 Dove appunto Abbiamo Nella Veriard 1 La possibilità Di droppare Le armi di Barrett Nella Veriard 2 Invece Quelle di Yuffie Ma come difficoltà Potete notare Che sono Praticamente Identiche Cosa Differente Invece Per la Veriard Numero 3 Che comunque Ho già completato Vi da anche I materiali Come potete vedere Per portare Leviathan Al livello Superiore Quindi Sbloccare Praticamente La sua limit Anche a livello 10 Così come Abbiamo sbloccato Anche quella di Shiva Che arriva adesso Fino a livello 10 E qui La difficoltà Invece Inizia ad aumentare Un po' di più Quindi 202 1500 Come power Richiesto Però Con il team Che vi farò vedere Si riesce A gestire In modo Molto Molto Sereno Questo è il team Che ho utilizzato io Un team Da 278 Mila Di power Che sembra Essere tanto Ma vi posso garantire E nella media Per riuscire comunque A completare Senza fatica Questo tipo Di combattimento Senza fatica Che cosa vuol dire Vuol dire Che si può giocare Tranquillamente In semi auto O addirittura Perché no In full auto Quindi è un setup Che comunque Vi sto proponendo Proprio per Diciamo Aiutarvi Al 100% Ho portato Un sephiroth Che in realtà È un sephiroth Buildato Solo ed esclusivamente Con attacchi Non elementali E che Ha un ruolo Diciamo Abbastanza particolare Ovvero Quello di Eliminare i minion Nel più veloce Dei modi possibili E poi Soprattutto Indebolire L'attacco Di leviathan E infliggere Tramite Lightning Breach La debolezza Tuono Che comunque Non è una Gran debolezza Tuono Come potrei Infliggerla Con red O come potrei Infliggerla Con yuffi Però È una debolezza Tuono Che mi aiuta E quindi Perché no Ovviamente Limit Metto La sua Limit La sua Seconda Limit Che mi Consente Di incrementare Attacco Fisico Magico Anche se Ovviamente Noi qui Puntiamo A fare Danni Non Elementali Magici E anche Il debuff Quindi In questo Caso Di nuovo L'arma Di Kuja Che mi Consente Di fare I debuff Di Attacco Sia Fisico Che Magico Per quanto Riguarda Le statistiche Abbiamo Comunque Un buon numero Di HP Di 9200 Un buon numero Di danno Magico Di 3002 E come Abilità Potete vedere Abbiamo appunto Il boost Magico Al 4 Il boost Magic Ability Al massimo Con L'Arcanum Ability Mastery Sempre Dato dal Costume E poi Il boost Di attacco Magico A tutta La squadra Che ovviamente Si fa sentire Con i danni Che possiamo Infliggere Con Sephiroth Sigilli Ovviamente Materie Sigilli In questo Caso Un Lining Diciamo Un Tandara In questo Caso Che mi serve Solo ed esclusivamente Per ridurre La barra Dell'attacco speciale Di Leviathan Anche se Cloud potrà fare Tutto da solo Quindi Non ce n'è neanche Bisogno La cosa La cosa che Ovviamente Dovrete fare È quella Di inserire Il sigillo AX Se avete La sinergia Col sigillo X Ancora Meglio Se non ce l'avete Cercate Di mettere Almeno Un sigillo X A tutti I personaggi Per quanto riguarda Sub weapon Abbiamo comunque Difesa magica Boost ability HP boost ability E poi Boost magico E boost magic ability Quindi Top Diciamo Top army Per quanto riguarda Questo stage Anche perché Qui incrementare La difesa magica È praticamente Il 100% Del vostro compito Mentre invece Per quanto riguarda Aeris Set up Con fairy tale E saving grace Che vabbè Sarebbe la mitrile rod Però l'attacco È saving grace Che mi consente Di incrementare Attacco fisico E magico Direttamente Di due tacche Un po' come La nuova arma Di Matt Che però lo fa Con 4 barre ATB E lo fa E lo fa Mid da subito E non come Aeris Dopo una stella rosa Quindi capite bene Già che C'è una differenza Abissale Se avessi avuto Matt Nei confronti Di Aeris Perché avrei utilizzato Matt Al 2000% Però va bene Lo stesso Anche in questo modo Focus ovviamente Sull'ealing 2003 Che mi consente Comunque di curare Istantaneamente Tutti i miei personaggi Attacco magico Giustamente pompato Dalle caratteristiche Di Sephiroth Un po' meno HP Ma con una fortissima Resistenza magica Di ben 180 punti Per quanto riguarda Le materie Abbiamo sempre Il Tandara Che è praticamente Obbligatorio E poi abbiamo i sigilli Praticamente in questo caso Cerchio Ma non solo Per le stats In questo caso E poi Il sigillo AX Che è fondamentale Per la fase A sigilli Come sub weapon Ovviamente Difesa magica Healing HP E HP difesa magica Quindi proprio Completamente Incentrata Sulla difesa Magica Per quanto riguarda Cloud Invece È ovviamente Il mio toro In questo caso Il mio DPS Di sfondamento Vestito Arcanum Murasame Ovviamente Che fa danno Tuono E poi Ho portato Una Buster Sword Per il sigillo AX Ma anche Per le stats Volendo potrei Anche toglierla Ma va bene Così Perché tanto Le mie stats Sono comunque Maxate Infatti Come potete Vedere Ho boost Attacco fisico Al massimo Boost Lightning Al 7 Che potrei Comunque Portare avanti Ma ovviamente Non ho altre armi Per darmi Questo boost Ma a me Sinceramente Sta bene Così Come materie Ovviamente Abbiamo il sigillo Triangolare Che qui Abbiamo il bonus Quindi Molto 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 Buono E poi Le altre materie Che mi servono Solo ed esclusivamente Per le stats Tranne un Tandara Blow Che l'ho messo Giusto per accelerare Un pochettino Le cose Summon Ovviamente Di Ramù E poi Come sub weapon Abbiamo praticamente Tutto ciò Che mi incrementa HP Danno tuono Danno fisico Danno tuono HP Danno tuono Quindi Mi consente comunque Di avere Un ottimo cloud Con ben 10.396 HP Un ottimo Diciamo Flusso d'attacco Con 3.800 punti E il boost Lightning Portato al 7 Quasi 8 Che È comunque Tanta roba E mi consente comunque Di fare Parecchi danni Questo è il setup Che vi consiglio Ed è il setup Anche che ho utilizzato Per la risoluzione Della Veriard 1 E della Veriard 3 Che ovviamente Vi allegherò Adesso in video Sono stato più lento Nello score Infatti ho preso Semplicemente Un B Perché Praticamente Per prendere L'S Plus Non dovrete Far andare Leviathan Nella fase A sigilli Quindi dovrete Ammazzarlo Prima Di farlo Entrare Nella fase A sigilli Se riesce Ad entrare Nella fase A sigilli Ovviamente Perderete Un sacco Di tempo Per buttare Giù i sigilli Che sono Addirittura 40 E passa Quindi dovrete Attaccare Spesso E volentieri Per buttare Giù i sigilli E quindi Si perderà Un sacco Di tempo E lo score Giustamente Diminirà Quindi Se riuscite A buttarlo Giù subito S Plus O comunque E grado S Se no Vi accontenterete Di un grado A O comunque Di un grado B In base Ovviamente Alla vostra Diciamo Alla vostra Alla vostra Capacità Di buttarlo Giù subito Detto ciò Non c'è altro Da dire Per quanto riguarda Leviathan Vi alleggo Le mie run Giusto per farvi vedere Come Meccanicamente Sia abbastanza Semplice Il combattimento Sperando che Questo video Possa esservi stato utile E noi come sempre Ci becchiamo Alla prossima Bye bye Sperto Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.